Ciao sono Ambra, oggi voglio proporvi un video un po' particolare, ho sistemato la mia make up table, potete vedere chi ne aveva abbastanza bisogno, questa è un'operazione che faccio circa una volta a settimana, do una bella pulita e organizzo il tutto, pensavo di farlo in vostra compagnia. Allora per prima cosa vado a intanto dare una pulita intensiva a questa palette magnetica molto carina, questa l'avevo presa presso l'outlet di Mesauda, vado a dare una bella pulita perché voglio mettere al riparo da cadute e quant'altro, alcune cialdine di MAC Cosmetics che appunto erano in bustine trasparenti, non mi sembrava il caso, alcuni ombretti all'interno di questa palette di Tango, come vedete la compongo sui toni molto accesi, questa è una palettina carina, perfetta per la primavera, metto colori veramente dai toni accesi, giocosi, questi pottini più piccoli, queste cialdine più piccole che vedete sono di MAC Cosmetics e di Inglot, non sbaglio, vado appunto a comporre questa mia palette così me la metto da parte, quando vorrò dare una botta di colore userò lei, l'importante è che mi permetteva mettere al sicuro queste cialdine che vedete singole con la calamita appunto, così sono protette al riparo da tutti e da tutto, come potete vedere, e vado a comporre questa palette che ha preso delle cromie davvero interessanti, questo lo vado a gettare direttamente ed era un blush di una passata collezione di essence che io avevo appunto depottato per usarlo, mi piaceva da matti, solo che effettivamente ha fatto il suo corso, la aggiungo anche un altro ombretto marrone e poi vado a dedicarmi al cambio dell'asciugamano che io sono solita usare sotto al tavolo per proteggere insomma il tavolo, per avere un'idea un pochino più di ordine, di pulizia. All'interno di questo contenitore che come vedete ho foderato io stessa con dei cartoncini delle palette che ho ritagliato, vado a mettere tutte le cose che mi servono, sia per il trucco che la sera per fare il primo step molto grossolano del mio struccaggio, quindi olio bifasico per occhi, salviette, acqua micellare, in questo caso inserisco anche vedete il mio contorno occhi, poi passo dei rossetti che voglio avere in vista, il primissimo era arabesque di nabla che indossavo nell'ultimo video precedente a questo, era un colore che addirittura mi ero scordata di avere, quindi ora me lo metto in vista in questo organizzatore insieme ai prodotti labbra che sto apprezzando maggiormente nel periodo, che non a caso sono quelli che poi vedete nel video precedente a questo, si intitolava i miei top rossetti e tinte labbra del periodo, eccoli sono tutti i soliti colori che ritornano e sono effettivamente quelli che sto amando di più, inserisco anche due burri labbra, uno di Sienne e l'altro che voglio assolutamente terminare, ecco in questo organizzatore da tenermi sul tavolo in vista io generalmente metto cose che voglio anche finire come questi due correttori, una di The Balm ha fatto il suo corso e l'altro invece di Essence, metto anche questi due prodottini invece che voglio un pochino concentrarmi di utilizzare perché sono dei pottini per occhi di Nabla che tendono un po' a seccarsi e questo invece è il prodotto che uso sempre ed è il mio amato Paint Pot Soft Ochre di MAC, inserisco questo correttore anche di Eleger Cortmetics che sta finendo, questa palettina mi era piaciuta un sacco ma ora non la sto usando, e effettivamente me la metto lì per ricordarmi di usarla, idem anche con questa che era di una vecchia collezione di Kiko ed è un ottimo bronzer opaco, molto molto carino, lo metto in vista così ricorderò di usare anche lui e poi metto anche questo di Bobbi Brown che è questa sfilza di illuminanti che non disdegno di utilizzare anche come ombretto, altra palettina che sto finendo questa di Wicon, di correttori che mi era piaciuta davvero moltissimo, non possono mancare ovviamente le ciprie quindi inserisco queste due, Youngblood e Banana Dreams e poi metto anche quest'altro bronzing di Guerlain che mi piace sempre moltissimo per scaldare il mio trucco, il mio contouring, poi mi dedico anche a riempire la sezione illuminanti, metto questo che sto usando da mesi, mi piace davvero parecchio di MAC della linea Mirna Rise, questo voglio un attimo smaltirlo, comunque darci una botta perché è un po' datato ed era della linea Prep & Find di Catrice, con questa cipria luminosa, è meraviglioso come prodotto, uso anche il Mary Lou perché proprio voglio smaltire un attimo, tenere usato un po' tutto, poi inserisco anche una serie di blush, questi sono due new entry, avete visto MAC e Chanel che voglio provare, comunque usare, ecco provare no perché li ho già provati, uso anche questi due in settimana, questi sono i buoni propositi, questi due illuminanti rispettivamente di Lush e Wicon che trovo ottimi, sono anch'essi un po' datati, quindi me li metto bene in vista, è questo Cream Color Base di MAC che voglio finire, che si chiama Pearl e poi inserisco oggettivamente anche blush e prodotti che invece uso quotidianamente, mi piacciono come questo ad esempio che è di Kiko e trovo veramente fantastico per il contouring, insieme a quest'altro prodotto che invece voglio accingermi a smaltire, questo è di Maybelline, è questo matitone due in uno per il contouring e l'highlighting. Altra cipria, questa di Wicon e insomma vado a comporre tutto l'occorrente per il make-up di queste settimane, anche questo di Wicon e voglio utilizzarlo perché è datato e questo invece è Peaches, molto primaverile come blush, voglio farlo ruotare più che altro, ecco poi faccio ruotare i miei prodotti, li tiro fuori dalle cassettiere, questa è di Mesauda e voglio assolutamente finirla perché inizia anche lei ad essere un po' vecchiotta ed è una cipria compatta tra l'altro ottima, le mie Beauty Blender vedete che erano lavate e pulite e metto anche una cremina giorno che uso come base molto leggera su tutto il viso, una base idratante di Sienne di Lidl, uso anche questo ovviamente in settimana, questo è un prodotto di Shaka e questo invece è il piatto d'oro, dorato dove metto tutte le mie portate, ecco è parecchio la mia tavola, allora fondo nuovo di Dior che voglio provare, poi quello di Catrice che è in uso ultimamente insieme alla mia BB di Misha, poi questa palettina Christian Dior che trovo adorabile e poi queste palette occhi, questa in particolare è tutta composta dagli ombretti della collezione Goldust di Nabla, questa invece che è un mix di MAC, Make Up For Ever, Nabla, insomma c'è un po' di tutto nell'altra palettina, la sto usando veramente volentieri, metto in vista sul piatto anche questa palette contouring di Anastasia Beverly Hills che mi accompagna un po' nei make up di tutti i giorni, ovviamente anche la mia Shade Light Eye perché è una palette talmente basica con colori che sono in uso e sono utilissimi per qualsiasi tipo e sorta di make up ed ecco qua, ho messo anche i pennelli che non sono andata a lavare oggi, ero un po' pigra. In questo piattino invece continuo mettendo in vista dei prodotti che utilizzo, il mio eyeliner per sopracciglia, la mia pomatina insomma di Anastasia, con due piccoli pennellini sempre per sopracciglia che metto lì in vista in questo piattino e poi sempre nel piattino, alla buona è perché io voglio, cioè sono molto pratica, forse poco chic e ordinata, metto anche alcune matite, il mio fixer di Essence che comunque utilizzo spessissimo e per qualsiasi utilità, per qualsiasi fine e poi metto così alla buona, appoggiati semplicemente sul tavolo, i mascara, quasi tutti quelli che ho in uso ora, in realtà ne ho altri, anche una pochettina trucco che porto con me, che avevo appoggiata lì di fianco, ecco. Eh sì, è un po' incasinata la mia make up table, anche altri piccoli tester, in questo caso erano con mascara, come sono il piattino di MAC che mi sta piacendo molto, e in queste due buste trasparenti di Nabla ho inserito alcune spugnette trucco pulite che utilizzerò poi nel corso della settimana, poi ci sono anche dei tester e dei campioncini, e nell'altra invece ci sono sia tester che campioncini che, eccola qui, ho voglia di utilizzare, provare o comunque terminare in settimana, partendo da questo prodotto di Sensai, fondotinta compatto in crema, anzi scusate in polvere, che mi incuriosisce davvero molto, ma poi abbiamo prodotti di Youngblood, di Neve, di MAC, metto ecco in vista un correttore, quello è che ho messo in vista nel piattino, un correttore di bare minerals, idratante, oleoso, che mi piace moltissimo, il temperino, non può mancare, due minuti di gloria anche per lui, insomma vedete, sistemo il tutto alla buona, in modo che quando vado poi a sedermi in velocità la mattina, riesco a trovare il tutto, ho messo anche gli eyeliner, e poi metto anche questo ombrettino, che è di We Make Up, è un ombretto marrone, con cui mi trovo divinamente per creare le mie sopracciglia, e l'altro è un eyeliner, sempre di We Make Up, in gel, e sistemo un po' il tutto, insomma in modo veloce, questo di Nars, mi avete detto che posso riutilizzarlo, riuscendo a togliere la parte sopra, motivo per cui me lo metto in vista, per ricordarmi di togliere la parte sopra, e vedere se uscirà ancora del prodotto, come mi avete suggerito voi, e ci siamo quasi, insomma, ecco, posiziono poi per ultima cosa il mio specchietto, e là, ecco la mia postazione pulita, rinnovata, e pronta per una nuova settimana, un bacione, statemi bene!